Come facevi a dormire, Elisabeth? Elisabeth, con il peso di una responsabilità come la tua. E invece tu, Rost, dopo che hai perso la tua famiglia. Silence, per caso ci sei? Forse non dovrei chiedere consiglio ai fantasmi. Oh signora, ci sono segnali da Ovest. Il Re Sole Avad vi attende al Tempio del Sole. Il Re Sole Avad vi attende al Tempio del Sole. È un falò, per caso. Forse stanno radunando le forze per l'assedio alla città. Non è legno che brucia. E allora cos'è? La fine. O il suo inizio, almeno. Gli esterminatori di cui parlavo... Alle armi! Alle armi! Subito! Per il sole, fate come dice! In posizione! Preparatevi! Pronti all'attacco! I cannoni li fermeranno? Stiamo per scoprirla. Alice! No! Raduna le avanguardie e chiama i rinforzi! A lui! No! Quei cannoni ci servono! Ma lui ti farà a pezzi! No, stavolta! Tu mi... Prestidobuto a... spielen tutto! Grazie! Voce... Grazie.